Il cuore non si ingaro e ma... Paola, non importa il cuore che è di giro che è già stato promosso, allora direi che passiamo a giocare... Paola, e poi indietro, Paola assiste i capelli, ci metti in mano e andiamo indietro, è buona quella di chi si impegna molto in quello che fa voglia, la volontà, essere di buona volontà. Paola, quello a muro è incassato nella parete, a mano, a mano a muro, spedizione, vendita di prodotti all'estero, esportazione, importe exporti, porto una parola per Paola, lo diventa la vendita di pane sulla braccia, a costruita, perfetto, buona vendita, buona vendita, pieno, tutt'altro, è discreto, è discreto. I will try them. Ma che va bene, va bene, va bene. Paola, fu uno degli apostoli di Gesù. Tanto l'ho vero? Perfetto, Piero, lo è la Q, ma non la U. Consolante è una Q. Perfetto anche questo, Piero, l'opposto di vizioso. Soprattutto, c'è stato sospetto di nero? Quella, quella dei documenti può essere ad adelli. Perfetto di core. Escezione. Guarda anche questa, Piero, che non può cambiare. Incambiabile, inutabile. Paola, agendicomia, a che fare col movimento. Cinettico. Giusto anche questo, Piero. è molto bello è buono è buono è buono è buono è buono 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 salatino non è buono è buono si coooooo si c'è ancora si c'è l'eusione un po' di ruota e'olico addosso Musheroni Mmmmm In intermezzo Pagni ragazzi, con pepino con pepino Zucchino Zucchino I thought it is pepino Mmmmm 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 Buono Mmmmm Mmmmm Alak, alak, pastit Mmmmm Suwana ko siya kung susan hini mo Mmmmm Mua Merio Mmmmm 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 Grabe Buono I Suuena gozos a secreto Mmmmmmm Viva la mancia, una signora Shafari John Un'unico che succede Viene seguita da un'occhio di becoe O può diciamo che diventa La mamma di you Bagga a kai, guys Mammis bagga, guys L'anggo è la sasos, guys Tau'an con mamma Probabilmente le beconelle si erano spartite E non avevano punti di riferimento Hanno scelto la signora Questa è una pare pratica della zona Poi avessero colori schercianti E percorrere la scelta Poi la signora si è fermata La contate E no, sta scelta Oh, oh, campione Sceglie il campo Il dottor Colla che no Vediamo, stiamo a piedi Dopo i giochi Aggi, che succede La macchina C'è un'occhio E' un'occhio Il dottor, non è un'occhio Adesso è un'occhio Il dottor, non è un'occhio Anche di un'occhio Il dottor, non è un'occhio Il dottor è un'occhio mi dispiace questi piedi proprio allora è una ricerca poi fatene l'uso che volete dice che la siccanica di abbia produce una serie di ormoni mi piace di tutto non so tutte secondo me è meglio stare tranquilli tutte le mie proprie quindi ci arrabbiarsi do la scelte a lei studio scelte c'è il massimo massimo non c'è adesso grazie grazie ci sono la gente che c'era ehi tu ma il telefono è il suono che lo dico no il tuo mestiere a voi è io in teatrice non i propri mi spieghi non si è in corretta non è in lì non i propri mi spieghi non si è in corretta non si è in corretta mi spieghi non si è in corretta incredibile nei cieli di Santa Catarina, ragazzo sparato da un cannone per 500 metri, oppure un uomo passeggia tra due non col fiero. Oddio, ha sensazione di ragazzo sparato da cannone per 500 metri. Mi dispiace Alice, è un angolo coraggiosissimo, Raffaele, che ha battuto il record di Blackline, non c'è il pinente, ma non è colpa di fravo, però non c'è il limite. No, non c'è un extr conceive. No, non c'è niente. No, non c'è. Non c'è. Allora, forse considerando come sono avanti in Giappone, sarei tentato di rispondere la prima. Mi piace la pizza Italia, ma nella tua città non la fanno così. Basta che se no mi scoppia. 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 Basta che se no mi scoppia.